ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube questa è la rosa che andrò a presentarvi oggi per rifinire questo mio progetto che ho realizzato in un video tutorial che troverete sempre su questo mio canale youtube la rosa è bellissima l'ho realizzata con lo stesso filato con cui ho realizzato la borsa all'interno ho inserito un cristallo un semplice cristallo questo che sono andata a cucire con ago e filo trasparente andrà cuscito alla mia borsa quindi rifinirò questo bellissimo progetto con questa bellissima rosa partiamo con la lavorazione di questo bellissimo fiore uncinetto numero tre e mezzo filato andiamo a creare l'anello magico inseriamo l'uncinetto che prendiamo il cappietto all'interno del cerchio andiamo a realizzare 3 catenelle 1 2 3 il lavoro all'interno 18 maglie alte 3 perché le 3 catenelle sostituiscono sempre una maglia alta 4 5 tiriamo un pochino il filo per stringere il nostro cerchio e stringiamo le nostre maglie 1 2 3 4 5 6 7 8 lavoriamo ancora 10 maglie alte dopo aver lavorato 18 maglie alte vado a chiudere con un punto basso nella prima maglia della catenella stringiamo il nostro cerchio adesso ci alziamo con 1 2 3 catenelle una catenella saltiamo una maglia di base e andiamo a lavorare una maglia alta in questa maglia sottostante dividiamo la maglia alta con una catenella gettata sull'uncinetto saltiamo una maglia di base e qui lavoriamo sempre una maglia alta una catenella saltiamo una maglia di base passiamo nella maglia successiva e lavoriamo una maglia alta dovremo avere alla fine del giro 9 archetti arrivata alla chiusura del giro andiamo a chiudere nella terza catenella in questa maglia qua con un punto bassissimo quindi avremo 9 archetti adesso iniziamo la lavorazione all'interno di ogni archetto ci alziamo con 3 catenelle 1 2 3 e all'interno di ogni archetto lavoriamo 1 2 3 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 e chiudiamo con una maglia bassissima quindi ci alziamo con 3 catenelle 3 maglie alte 3 catenelle e un punto bassissimo ci spostiamo nel prossimo archetto con una maglia bassissima ci alziamo di nuovo con 3 catenelle 1 2 3 e all'interno lavoriamo sempre 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 e andiamo a chiudere il nostro archetto con una maglia bassissima con una maglia bassissima ci spostiamo nel prossimo archetto sempre con un punto bassissimo e ci alziamo con 3 catenelle adesso 3 maglie alte 1 2 3 terminiamo il nostro petalo con 1 2 3 e un punto bassissimo andiamo a chiudere all'interno quindi proseguiamo così fino alla fine del giro arriviamo alla fine del giro lavoriamo le 3 catenelle e andiamo a chiudere con un punto bassissimo adesso prossimo giro dobbiamo inserire l'uncinetto all'interno prendere il cappietto del punto portarlo dietro questo modo iniziare a lavorare 1 2 3 catenelle passiamo nel prossimo archetto inseriamo l'uncinetto e lavoriamo un punto basso 1 2 3 passiamo al prossimo punto il prossimo archetto quindi inseriamo l'uncinetto all'interno prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso 1 2 3 andiamo nel prossimo archetto e facciamo la stessa cosa così fino alla fine del giro arriviamo alla fine del giro dove aver lavorato le 3 catenelle ci agganciamo nella prima catenella dell'archetto e chiudiamo con un punto bassissimo adesso ci spostiamo all'interno dell'archetto e lavoriamo un punto bassissimo ci alziamo con 3 catenelle e all'interno dell'archetto andiamo a lavorare 5 maglie alte totale maglie del petalo sono 7 3 4 5 lavoriamo 3 catenelle 123 sostituisce il punto alto e chiudiamo con un punto bassissimo quindi avremo le 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta 123456 e le 3 catenelle che sostituiscono sempre una maglia alta totale 7 maglie quindi ci spostiamo all'interno del prossimo archetto e lavoriamo un punto bassissimo ci alziamo di nuovo con 3 catenelle e all'interno e lavoriamo sempre 5 maglie alte 2 3 4 5 3 catenelle 123 e chiudiamo con un punto bassissimo non abbiamo formato anche il prossimo petalo proseguiamo così fino alla fine del giro arrivo alla chiusura del giro dopo le 3 catenelle chiudo il petalo con un punto bassissimo adesso ripetiamo inseriamo l'uncinetto all'interno in questo modo agganciamo il punto lo portiamo dietro adesso lavoriamo 4 catenelle 1 2 3 4 inseriamo l'uncinetto sempre all'interno usciamo da questa parte e andiamo a lavorare una maglia bassa di nuovo 4 catenelle 1 2 3 4 inseriamo l'uncinetto da questa parte prendiamo il nostro filo e lavoriamo un punto basso 1 2 3 4 ripetiamo la stessa cosa nel petalo successivo un punto basso quindi ripetiamo tutto il giro in questo modo fino alla fine arriviamo alla chiusura del giro chiudiamo il nostro archetto in questo archetto qua nell'ultimo archetto adesso ci alziamo con 4 catenelle 1 2 3 4 doppia gettata sull'uncinetto e all'interno dell'archetto lavoriamo due maglie insieme due maglie insieme due maglie insieme maglie altissime doppia gettata sull'uncinetto di nuovo due maglie insieme due maglie insieme ancora due maglie insieme due maglie insieme due maglie insieme siamo tre maglie altissime 45 maglie altissime la prima catenella sostituisce la maglie altissima quindi abbiamo lavorato 123456 l'ultima 4 catenelle e un punto bassissimo ci spostiamo nell'arco successivo e andiamo a lavorare le stesse maglie 1 2 3 4 doppia gettata sull'uncinetto lavoriamo 5 maglie altissime doppia gettata sull'uncinetto questa è la seconda maglie altissima 3 4 5 5 maglie altissime la prima catenella sostituisce la maglia altissima adesso lavoriamo 1 2 3 4 e chiudiamo con un punto bassissimo all'interno dell'archetto ci spostiamo nell'archetto accanto e andiamo a lavorare il prossimo petalo quindi avremo lavorato dei petali composti da sette maglie 1 2 3 4 5 6 e 7 proseguiamo così fino alla chiusura lavoro le ultime 4 catenelle 2 3 4 punto bassissimo e vado a chiudere completamente il fiore questo sarà il mio fiore che andrà a rifinire la mia borsa andrò a inserire al centro come vi ho già detto questa pietra questo cristallo al centro andrò a cucirlo con ago e filo trasparente bellissimo un bellissimo lavoro molto semplice da eseguire per rifinire le nostre borse queste rose andranno ad impreziosire questo mio lavoro il video tutorial della borsa lo trovate sempre sul mio canale youtube quindi inserirò queste rose qui per abbellire questo mio progetto spero che questo lavoro vi sia piaciuto e vi è piaciuto lasciatemi un like seguitemi sempre su questo mio canale youtube e vi aspetto al mio prossimo video tutorial ciao a tutti ciao a tutti